Stefano, ci racconti la tua disavventura, che cosa è successo quel giorno a Pasqua quando hai preso una multa salatissima su un treno alle 5 terre? Sì, eravamo di ritorno da una splendida giornata alle 5 terre, abbiamo utilizzato il treno pur avendo una macchina ma al ritorno è successo, diciamo così, credo un disguido da parte di Trenitalia nel senso che al momento in cui noi dovevamo prendere il treno per il ritorno era arrivato un treno dalla direzione opposta scaricando in ritardo scaricando una moltitudine di turisti e tengo a dire che noi avendo due bambini piccoli diventava anche difficile insomma gestirli in mezzo a quella folle di modo che noi pur avendo già i biglietti e regolarmente vedimati siamo saliti sul primo treno in direzione utile alla nostra destinazione finale questo treno con nostra grande sorpresa si è fermato a Levanto e a Levanto le voci fra i viaggiatori era che non sarebbe più andato avanti e anzi sarebbe ritornato verso la Spezia, quindi direzione opposta noi comunque siamo scesi e avete preso un altro treno esattamente quando siamo scesi sulla banchina che era parimenti affollata da tutte queste persone che erano uscite dal treno che invece che ritornare verso Genova ritornava verso la Spezia e abbiamo preso il treno credendo che fosse il nostro e ci siamo accomodati invece su un Intercity il 6180 e lì vi siete presi una multa salatissima il controllore ci raggiunge e ci dice ah biglietti prego naturalmente noi facciamo vedere questi biglietti dice questi biglietti non valgono niente testuali parole e per cui lì vi devo fare il verbale di quanto? alla fine 117 euro quindi una multa da 117 euro che è una multa salatissima tengo a dire per una fermata ripeto per una fermata perché poi quando noi siamo scesi a Sestri Levante dopo 5 minuti è arrivato il treno 3096 che era quello per cui noi avevamo questi biglietti quello che voglio dire è che dopo 5 minuti è arrivato il nostro treno quindi noi non ci abbiamo guadagnato assolutamente nessun tipo di non abbiamo avuto nessun guadagno in termini di tempo io ho fatto vedere ho presentato a Trenitalia questa multa che mi è stata fatta sul 6180 da parte del controllore dell'Intercity Trenitalia mi risponde che in realtà avremmo dovuto essere multati per circa 15 euro a testa insomma e che per questo si impegna a restituire 85 euro quindi alla fine avrai un rimborso di 85 euro sì, peraltro si scusa per diciamo così l'idea che ci siamo fatti sulla modalità di riscossione da parte del controllore e poi in buona sostanza questa lettera indica anche che c'è la possibilità di conciliare un'eventuale poi diciamo così situazione ulteriore nel caso che noi non fossimo soddisfatti io posso dire che non siamo del tutto soddisfatti allora uno perché pensiamo penso pensiamo che la multa non si possa commutare in altra infrazione minore ma debba essere semplicemente annullata non si possa